Sono in totale 38 i profughi accolti nelle strutture presenti all'interno del territorio del comune di Castiglion Fiorentino, 19 in zona La Nave e 19 nella struttura di proprietà della Fraternita dei Laici, in via della Casina. Numeri che, secondo il primo cittadino Mario Agnelli, dimostrano come Castiglion Fiorentino stia facendo la propria parte in tema di accoglienza. Per il primo cittadino castiglionese però ci sono ancora tanti comuni del territorio retino che predicano bene e razza l'anomale. Il messaggio è diretto in particolare ai colleghi del Valdarno, che sono ancora ben lontani dal raggiungere la quota di persone accolte assegnate ai loro territori. Agnelli non lesina critiche nemmeno al governo. Se è emergenza, è emergenza per tutti. È un'emergenza nazionale, è un'emergenza europea. Poi si può stare a discutere sul perché e sul per come siamo arrivati a questa emergenza. Io personalmente sono critico nei confronti del governo italiano e anche probabilmente di quelle che sono le politiche europee. Però sta di fatto che noi, anello finale della catena, ovvero territori comunali, abbiamo l'onere di dover sopportare per quota parte un problema che è di tutti. Grazie.